Un grande appuntamento live in chiusura di Videotop questa settimana, grande in tutti i sensi è di nome di fatto stiamo parlando di Ariana Grande, protagonista al Mediolanum Forum il prossimo 25 maggio, unica data italiana, successo strepitoso a livello mondiale, naturalmente star planetaria multiplatino, il suo acclamatissimo album My Everything, che ha raggiunto pensate il vertice delle classifiche di iTunes in 80 paesi e così finalmente dicevamo a proda in Italia il suo show live The Honeymoon Tour che per quanto ci riguarda sarà protagonista il prossimo 25 maggio al Mediolanum Forum di Milano, unica data italiana e ci salutiamo allora con Ariana Grande, break free, mentre alla prossima ancora una volta vi aspetto, non siete liberi, obbligati ad essere. qui a Videotop Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti